Ben ritrovati amici della Voce del Portico, una nuova intervista, oggi siamo nella sede di Lavoro Più, siamo con Barbara Martelli, responsabile marketing di Lavoro Più. Barbara benvenuta qui sulla Voce del Portico. Grazie, grazie soprattutto per questo invito, molto molto contenta di essere qua oggi. Grazie mille Barbara, continuiamo a parlare del tema della ripartenza, fase 3. Oggi siamo nella sede di Lavoro Più, innanzitutto usciti da questa fase di lockdown, si prova a tornare un po' alla normalità. Fase 1, fase 2, fase 3. Un piccolo bilancio, un po' come sta andando Barbara. D'accordo, allora noi innanzitutto per un po' di formazione professionale siamo già nella fase 4 e 5, perché è normale che dobbiamo cercare di studiare, un po' e anticipare quelle che possono essere le tendenze future per farci trovare pronti, per farci trovare preparati, per andare a rispondere in maniera più professionale e precisa possibile a quelle che saranno le esigenze dei nostri clienti, delle aziende, dei nostri lavoratori. Abbiamo cercato di affrontare questi mesi con coraggio, con determinazione, con la voglia appunto di uscire quanto prima dalle fasi di stallo di incertezza che ci hanno caratterizzato e con la preoccupazione primaria per la salute di tutti i nostri collaboratori, per poterci accertare che tutti stessero bene e non stessero attraversando situazioni di estremo o particolare disagio. e definita questa fase noi siamo rimasti attivi, operativi, perché abbiamo dovuto comunque garantire la continuità dei contratti di lavoro dei nostri dipendenti in somministrazione e quindi il servizio erogato alle nostre numerose aziende clienti e alcune, è vero, si sono dovute fermare, hanno dovuto insomma subire questo stop, altri invece hanno continuato a lavorare e quindi a maggior ragione il nostro supporto operativo e burocratico per tutti i nostri lavoratori è stato fondamentale. I lavoratori in somministrazione, come saprai, godono della possibilità di avere la cassa integrazione in deroga, noi l'abbiamo gestita in maniera puntuale e precisa per tutti i lavoratori che si sono ritrovati in aziende che a loro volta avevano fatto richiesta di ricorso a questo strumento. Presumo per tante persone che sono rimaste ferme, invece tante persone che hanno continuato a lavorare, sottolineerei questo aspetto, proprio lo sforzo in un periodo di difficoltà di, non lo so, metterci qualcosa in più. È stato pesante, però allo stesso tempo possiamo dire è stato un qualcosa che bisognava portare avanti in qualche modo. Verissimo, verissimo. Chi lavora poi dentro Lavoro Più o comunque in un'agenzia per il lavoro deve vivere questo lavoro un po' come una missione perché l'accompagnamento alle aziende e ai lavoratori è continuo, è giornaliero e lo sforzo organizzativo di Lavoro Più è stato importante perché è vero che abbiamo dovuto garantire la nostra operatività, la nostra reperibilità, ma abbiamo dovuto anche rispettare quelle che erano le norme di distanziamento sociale emanate dal governo e quindi in un gioco di turnazioni, attività in simi smart working e attività in presenza nei nostri uffici, abbiamo cercato di turnarci per evitare il sovraffallamento degli uffici e però garantire lo stesso a tutti i nostri colleghi, a tutti i dipendenti di Lavoro Più, soprattutto quelli impegnati in prima linea nelle nostre filiali, di poter essere operativi, attivi, di poter rispondere telefonicamente, via mail a tutti i clienti, a tutti i lavoratori Ti faccio una domanda sul tema dello smart working, è entrato di diritto all'interno della possibilità di poter essere valorizzato come un punto di lavoro importante, un metodo in più, un qualcosa in più, uno strumento in più Qui tu cosa ti senti di dire? Bisogna fare una valutazione in futuro anche sul tema dello smart working? Sì, bisogna farla, bisogna farla seriamente, non bisogna improvvisarsi e come in tutte le cose secondo me non bisogna esagerare o generalizzare, è sicuramente un vantaggio, abbiamo visto che in situazioni di emergenza ci aiuta a rimanere connessi, a rimanere informati, a rimanere aggiornati, a non perdere il lavoro perché possiamo garantire di portarlo avanti anche con la strumentazione tecnologica la connessione e la banda larga aiutano sicuramente, hanno aiutato insomma sicuramente a far sì che nessuno rimanesse indietro e come detto prima però per noi il valore dell'incontro e del confronto diretto del poter guardare negli occhi i nostri interlocutori rimane centrale non possiamo essere sostituiti da algoritmi, da nulla che possa essere come dire troppo spinto sul digitale e quindi ci sarà, continuerà probabilmente alcune aziende riusciranno a dotare interi reparti di tutta la strumentazione necessaria per continuare a lavorare in remoto, da casa o da altre postazioni ma rimarrà sicuramente fondamentale il confronto personale con colleghi e capi C'è stato un momento anche di paura, magari la paura di non farci, la paura di sapere che sarebbe stato difficile uscire da questa situazione c'è stato un momento di percezione oppure comunque voi siete andati dritti per la propria strada come detto anche prima, questo lavoro, chi lavora più, lavora più, è una missione quindi bisognava in qualche modo uscirne, avete fatto anche questo pensiero, avete avuto questa percezione Guarda, devo dire mai, non voglio apparire in questo momento in modesta, non siamo dei supereroi ma avevamo tutti la consapevolezza di lavorare in un'azienda solida, finanziariamente trasparente, a posto e che poteva garantirci quella serenità che poi ci ha permesso appunto di continuare a lavorare semplicemente cambiando un attimo il luogo di lavoro, la cucina della propria abitazione durante qualche giorno della settimana invece che l'ufficio, il luogo di lavoro tipico a cui eravamo abituati ma appunto la sicurezza che ci ha dato il fatto di avere un'azienda solida alle spalle ci ha permesso di lavorare con serenità e quindi di affrontare il problema che magari invece l'azienda o il nostro interlocutore ci poneva in quel momento con una lucidità che probabilmente insomma sarebbe stato difficile invece avere se a quella avessimo dovuto aggiungere un carico di ansie e di preoccupazioni per il nostro personale futuro lavorativo Guardando un attimo al futuro, sapendo che è difficile fare una valutazione adesso però tu che futuro intravedi, che futuro percepisci una ripartenza lenta, una ripartenza che può arrivare già a piccoli traguardi ecco quello che ti senti di dire su questo? Intravediamo delle crescite e comunque dei ritorni alla normalità in alcuni settori per alcune aziende molto importanti per noi e questo ci fa ben sperare del fatto che insomma possano essere da traino anche per tutto il resto questa apertura, l'uscita totale dalla fase di lockdown e di chiusura è sicuramente uno sprone a che si riprenda tutto con la voglia di fare che insomma eravamo abituati a conoscere fino a marzo del 2020 all'inizio di marzo del 2020 Prima di giungere la conclusione, una domanda a livello di settori di riferimento con i lavorativi da questa pandemia cosa emerge? Cosa emerge? Innanzitutto cosa ci ha insegnato questa pandemia? Prima domanda E la seconda è relativa ai settori se c'è qualche settore che è emerso un po' di più rispetto ad altri Ma ti dirò, quello che ci ha insegnato io anche qui eviterei delle generalizzazioni perché ognuno ha potuto vivere questa situazione in maniera personale siamo stati tutti lasciati in casa, chiusi e quindi ognuno ha preso il proprio vissuto le proprie esperienze, il proprio coraggio, la propria forza o le proprie debolezze la propria demotivazione e se le è portate avanti nel corso dei mesi quindi ci auguriamo tutti che fasi così dense di preoccupazioni portino a fasi più spensierate, con più speranza, con obiettivi di miglioramento Sui settori sicuramente i settori che hanno avuto un'impennata in questo periodo non smetteranno di lavorare e lo vediamo, i supermercati continuano a essere pieni alcuni devono contingentare ancora gli ingressi in alcuni anche girando qui per la città di Bologna si vede che ci sono ancora delle file fuori perché si possa accedere senza creare assembramenti ma i generi di prima necessità, gioco forza, insomma saranno sempre quelli che cercheranno di non mancare nelle case degli italiani, quindi sicuramente quei settori continueranno a produrre, a lavorare e ci auguriamo, ripeto, facciano da traino, insomma, quello sicuramente ci auguriamo di vedere le file davanti ai negozi di abbigliamento, davanti ai negozi di accessori che, ecco, magari in questo momento non sono considerati bene di prima necessità ma che hanno tutto il diritto di essere, insomma, come dire, considerati e tornare nel paniere, nel borsino di spesa degli italiani L'oro più, il tema della ripartenza, c'è anche una bella iniziativa ti chiedo un po' di raccontarla, di dirci qualcosa Certo, certo, questo è un po' il fiorellocchiello di questa nostra estate noi che siamo così abituati a essere presenti anche in più attività perché siamo, insomma, un'azienda sempre molto attenta a valorizzare le attività dei territori in cui opera, soprattutto qui a Bologna siamo sponsor da tantissimi anni del Bologna Calcio, della Fortitudo cose che magari, appunto, i tuoi spettatori sapranno e quindi, insomma, periodi di partite, di match day di eventi culturali sponsorizzati quando c'è stata offerta l'opportunità di sostenere un'iniziativa inserita all'interno dell'agenda di Bologna Estate non ce lo siamo fatti dire due volte, insomma e quindi dal 3 al 12 luglio ci sarà Lavoro più Summer Time all'interno del chiostro di San Martino che, oltretutto, si affaccia sulla piazza in cui c'è la sede degale di Lavoro più Lavoro più è proprio in piazza San Martino e quindi c'era questa assonanza che proprio non poteva farci dire no e si svolgeranno delle serate all'insegna della comicità della buona musica e il tutto è stato ideato, organizzato e la direzione del coordinamento artistico in capo a Emilio Marrese e, appunto, insomma, ci saranno queste serate in alcune ci saranno degli amici di Lavoro più comunque dei personaggi che sono stati testimonial per altre nostre iniziative che quindi conosciamo bene che non vediamo l'ora si possano esibire tra tutti cito Federico Poggi Pollini Nella stessa serata, invece, ci sarà anche Filippo Venturi che è, appunto, un altro amico di Lavoro più che siamo contenti possa avere un palco per sé qui nella sua città, nella sua Bologna Barbara Martelli, responsabile marketing Lavoro più Barbara, grazie mille per essere stata qui ospita La Voce del Portico Grazie a te, Mario e un saluto a tutti gli spettatori Grazie, grazie Grazie mille a Barbara Martelli finisce qui un'altra intervista della Voce del Portico e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima